Ciao ragazze, eccoci qua, oggi è il 25 agosto, ore 10 e 12 e siamo di nuovo pronte per un altro tutorial e io mi sono dimenticata di spegnere la tv, quindi lo faccio adesso, arrivo Ok, Tony Tony ha la tv Stavo guardando Mediaset Extra, c'era una di quelle commedia all'italiana vecchissime Ok, non fate caso ai capelli perché mi sono svegliata 10 minuti fa praticamente e io ero pettinata così mentre dormivo, la frangia è tutta tirata su quindi è proprio una schifezza ma volevo fare almeno un paio di video quindi ho detto prima penso ai video poi penso a farmi la doccia, a farmi i capelli eccetera quindi vi dovete servire sta faccia un po' sconvolta Allora, sul viso non ho dato nulla perché sono abbronzata, ormai l'ho detto tipo 9000 volte ho già messo il primer occhi della I Love Stage e ho messo anche la matita per sopracciglia alla 04 Mocha di Collistar Iniziamo subito, il video di oggi è una video richiesta per un trucco sull'argento Quindi casca a fagiolo anche questo perché? Perché ieri ho fatto degli acquistini che vedrete dopo nel video haul ma uno degli acquistini lo utilizzeremo anche per questo tutorial Scusate se la luce va e viene ma come ieri il tempo qua a Genova è incerto e c'è il sole che continua a spuntare e a rinascondersi spuntare e a rinascondersi quindi continuerete a vedere cambi di luce Comunque uno dei protagonisti di questo make up tutorial è il nuovo ombretto di Kiko 229 ovvero quello argento questo qua che fa parte dei 4 che mi ha regalato ieri Cree quindi poi ve li farò vedere magari nel video haul dopo adesso facciamo il tutorial e poi ne riparliamo allora come dicevamo sul viso non ho dato nulla sulla palpebra ho già dato la mia base per ombretto io come al solito ho dimenticato di lare salviette ma ormai cosa c'è? Non mi dovrei neanche più stupire vado a mettere sulla prima parte di palpebra ovvero il primo terzo un pochino di questo ombretto in crema della linea Stay All Day di Essence il numero 04 Stars and Stories quello sull'argento l'unico difetto di questi cavolo di ombretti è che li hanno fatti in queste ciotoline qua di plastica che per chi non ha le unghie sono comodissime per chi ha le unghie lunghe a un certo punto è un po' complicato recuperarli e visto che dati con il pennellino non hanno la stessa rezza che con le dita boh prima o poi mi dovrò ingegnare per tirar fuori l'ombretto allora se sentite slappettare qua dietro Atos non ti leccare più quella zampa perché prima o poi ti cade mi resti con tre zampe sole allora si è talmente lecato una zampa che si è portato via praticamente il pelo da un pezzettino di zampa e continua a lecarsi in perterrito vabbò andiamo avanti allora messo l'ombretto sia da un lato che dall'altro e ora faccio l'altra parte è veramente stupendo questo ombretto qua parte che hanno una durata micidiale quindi se li trovate ancora negli stand essence acquistateli perché veramente ne vale la pena ok sfumatelo bene sta luce che va e viene è un'angoscia spero davvero che riusciate a vedere abbastanza per questo video perché è un macello allora ah se mi vedete vestita uguale a ieri non è che non mi cambio è che io dormo con la magliettina che avevo in palestra questi giorni quindi tutto qua per quello allora andiamo a prendere il nostro mitico 229 di Kiko lo andiamo a mettere asciutto ed è un bel grigio argento molto 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 brillantinato quindi anche da solo secondo me faceva la sua porca figura guardate che cerco di inquadrarmi il meglio possibile perché poi magari non mi vedete io sono qua dalla tranquilla che mi facciamo così che con lo specchio un po' più alto magari riuscite a vedermi meglio ok quindi mettete l'ombretto sui due terzi di palpebra rimanente e lo sfumate tutto nella piega in questo modo così è veramente un bel colore sì sì devo dire che questa volta praticamente gli ombretti li ho scelti insieme a Kri quindi buona parte del merito è sua fate la stessa cosa di qua quindi due terzi di palpebra più la piega sfumata in questo modo ok a questo punto andiamo a prendere sempre della linea nuova di Kiko della Lavish Oriental la matita grigio scuro antracite la numero 05 se mi vedete è lucida perché sto sudando tantissimo prendete la matita l'avete già vista in un altro tutorial e la utilizziamo al posto dell'eyeliner quindi andiamo a fare una righina sottile attaccata alle ciglia in questo modo per rendere lo sguardo un pochino più come dire definito ecco sono riuscita a trovare la parola senza metterci un quarto d'ora ok più o meno ci siamo così a questo punto con con la parte sfumino della matita oppure se utilizzate un'altra matita grigia scura prendete un pennellino d'eyeliner andate a sfumare leggermente il colore che avete appena messo in modo da appunto non renderlo troppo una riga d'eyeliner per quanto semplicemente un punto più scuro e sfumato della vostra palpebra ragazzi come sto sudando fa caldissimo per quello mi sono svegliata a questo ciuffo tipo Elvis perché sudando dormendo e sudando ho tirato su completamente la frangia ma il risultato non è proprio dei migliori ok a questo punto prendiamo la parte ovviamente dove c'è la punta della matita l'andiamo a mettere nella rima interna e invece per dare luce al trucco sotto la rima inferiore vado a mettere un matitone della delivro della linea luminelle del quale stavo cercando di leggere il codice mi sembra che sia 8 4 3 6 6 argente toile ovvero questo argento brillantinato unico di fatto di questi matitoni che col caldo mi si ammosciano un pochino quindi vado a darlo leggero perché ha la punta molto molto morbida è molto bello perché è brillantinato quindi lo vado a dare sotto la nostra rima inferiore e lo stendo col dito così e poi lo stendo col dito perché se andassi troppo pesante con la riga mi verrebbe fuori un rigone esagerato vedete che la punta si è proprio spostata mentre lo davo e allo stesso tempo non darebbe solo questa scia di brillantini ma un patacone argento che non mi piace sto sciogliendo ok a questo punto direi che il nostro trucco occhi è quasi finito manca semplicemente il mascara per il mascara vado a utilizzare un duo ovvero metterò prima la eye definition volume di new york color e poi della kiko il top coat quello incurvante quindi prima new york color che mi piacciono un sacco gli ombre i mascara della new york color però hanno lo scovolino durissimo tutte le volte me lo sbatto nella palpebra interna mi fa un male boia aspettate che io mi guardo sotto ma poi magari voi non mi vedete bene quindi facciamo così è andato di nuovo via il sole che schifo di giornate dio mio è tre giorni che fa sto tempo orrendo che sono gli ultimi giorni di ferie che ho me li sto veramente bruciando e in più mi sto sbiadendo il che non mi piace per niente ok a questo punto dopo aver messo il new york color volume mettiamo la eye definition quello incurvante che devo dire fa assolutamente il suo lavoro è ottimo volevo provare anche quello verde con le fibre mi incuriosisce ok direi che ci siamo allora per quanto riguarda le labbra invece doppia opzione ovvero prima opzione un gloss molto chiaro molto luminoso della linea Kiko Sensation Lip Gloss numero 02 ed è questo fatto a penna che io avevo preso l'anno scorso all'outlet mi ero trovata da dio cioè era uno dei miei preferiti è uno dei miei preferiti sia per il colore sia per la durata è proprio valido ed è molto modulabile quindi potete decidere quanto metterne e quanto rendere il lucidalabbra carico ok e questa è la prima opzione quindi la prima opzione è un rosa molto chiaro molto lucido che ha pure secondo me dei glitterini sull'argento quindi va proprio a completare il look sull'argento e ci piace la seconda opzione per la quale mi serve una salvietta speriamo di avere delle salviette qua dentro aspettate perché forse ho avuto l'illuminazione divina ieri ho preso da Essence esatto le salviette quelle per le mani monouso eccetera hand and body quindi mani e corpo di questa linea qua di foreboarding della quale io non ho trovato praticamente niente a parte le salviette quindi vado a recuperare una di queste che hanno un profumo micidiale mi piace un sacco e anche se non andrebbero passate sulle labbra facciamo così almeno facciamo prima ok mi pulisco anche le dita visto che prima mi ero tutta spacciugata e andiamo con la seconda opzione la seconda opzione di rossetto è sempre un lip gloss della linea di Eva Garden Make Up Italy ed è il numero 77 ovvero questo bel fucsia qua questo mi piace molto per il colore ma meno per la texture e vi spiego subito perché allora da vedere da mettere molto bello quindi a primo impatto di Cibelin spettacolo mi piace un sacco a lungo andare tenendolo va a crearsi come una patina gommosa e quando le labbra si incontrano crea dei filamenti orribili quindi direi che lo boccio a livello di praticità peccato perché ha un bellissimo colore ed è molto cremoso molto morbido però piano piano poi diventa gommoso e non mi piace assolutamente vabbè a questo punto direi che il nostro make up tutorial è finito spero che la richiesta sia stata esaudita spero che ti piaccia e ti mando un bacione grande al prossimo video ciao ragazzi